Alessandro Stellino, la settima edizione di Israel, una collocazione un po' anomala a dicembre, che cosa si devono aspettare gli spettatori e gli amanti del cinema del reale in questa settima edizione? Si devono aspettare una bella programmazione, siamo molto felici di quello che offrirà questa settima edizione. Oggi cominciamo con un film importante che inlizza per l'Oscar perché è candidato a rappresentare il Paraguay per la cerimonia degli Oscar. È il primo di dieci film in concorso internazionale, abbiamo poi una sezione titolata Scenari Sardi che racconta l'isola attraverso gli sguardi di registe, registi molto giovani ma assolutamente apilissimi. C'è un ospite di riguardo che è Michelangelo Frammartino, cui dedichiamo uno speciale, si può dire, con tutti i suoi film, in particolare Il Buco, che è stato presentato al Festival di Venezia e poi varie opere fuori concorso come la prima opera da regista di Anirno che ha appena vinto il premio Nobel per la letteratura. Una programmazione che smentisce di fatto il detto del settimo anno, della crisi del settimo anno? Lo smentisce assolutamente, noi puntiamo ad andare avanti spediti, arrivare almeno alla decima a questo punto e siamo sicuri che sarà una bellissima edizione da questo punto di vista.